Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme questa bella torta soffice alla zucca. È una torta semplice da realizzare e anche molto veloce perché nell'impasto vado a unire la zucca direttamente da cruda, grattugiata finemente. Il sapore è molto delicato e aromatico e assomiglia quasi alla torta di carote. Vedete la decorazione? Anche questa è molto semplice da realizzare. Poi vi faccio vedere come si fa. Iniziamo proprio dalla zucca. Questi sono 300 grammi di zucca pulita che grattugiamo utilizzando una grattugia. Io la faccio abbastanza fine così si incorpora meglio all'impasto. Ed eccola pronta. L'ho grattugiata abbastanza fine perché la metterò nell'impasto cruda. Per questo tipo di torta vanno bene tutti i tipi di zucca. Quindi utilizzate quella che trovate più facilmente. Adesso la mettiamo da parte e pensiamo all'impasto. L'aggiungeremo proprio alla fine. Prepariamo l'impasto. Quindi in una ciotola rompiamo 4 uova. Aggiungiamo 220 grammi di zucchero. Ed iniziamo a mescolare con le fruste. Aggiungiamo 150 grammi di olio di semi di girasole. 100 grammi di amido di mais e 300 grammi di farina un po' alla volta. Una bustina di lievito per dolci. È arrivato il momento di unire la zucca all'impasto. La zucca la mescolo direttamente con la spadola. E in ultimo per dare un tocco di croccantezza 50 grammi di granella di nocciole. Mi sono preparato uno stampo da 28 centimetri, unto e infarinato con un disco di carta forno sul fondo. E metto all'interno l'impasto. Ed ora in forno e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 45 minuti. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi. Ed eccola pronta! Adesso la lascio completamente raffreddare e nel frattempo vi faccio vedere come preparare uno stencil per la decorazione. Ed ecco quello che sarà il nostro stencil. Siccome voglio decorare la torta a tema Halloween, da internet mi sono scaricata questa immagine che è una tipica zucca di Halloween. L'ho stampata su un foglio A4 e adesso la vado a ritagliare e utilizzerò questa come stencil. Eccolo qua! Il nostro stencil è pronto. Adesso riprendiamo la torta e la decoriamo. Basterà semplicemente appoggiarlo più o meno al centro. E spolveriamo con lo zucchero a velo. Ed eccola qua! Con una semplice decorazione abbiamo tematizzato una torta di zucca per Halloween. E questa è una tecnica, un escamotage che possiamo utilizzare sempre quando vogliamo decorare in modo particolare una torta. Basterà stampare o disegnare lo stencil su un foglietto, ritagliarlo, appoggiarlo sulla torta, una bella spolverata di zucchero a velo e sarà sempre una torta diversa. Riguardo la torta vi do qualche piccolo suggerimento. Se volete farla senza glutine basta sostituire 300 g di farina con 300 g di farina di riso. Possiamo arricchirla, ad esempio aggiungendo delle gocce di cioccolato. Possiamo sostituire la granella di nocciole con altri tipi di frutta secca, ad esempio mandorle o noci. Possiamo anche farcirla, basterà tagliarla in mezzo e poi riempirla con della crema al cioccolato oppure della panna montata se vi piace. Ah un'altra cosa, con lo stesso impasto invece di una torta tonda si può realizzare un ciambellone o un plum cake oppure 12 muffin però in questo caso dovrete dimezzare il tempo di cottura. Spero che questo video vi sia piaciuto, che rifarete la ricetta, se avete domande o suggerimenti scrivetevi sotto nei commenti e io adesso assaggio.